La partecipazione al voto per le elezioni europee negli ultimi anni è drasticamente calata, eppure l'Europa, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha garantito pace e il rispetto dei diritti umani. Proprio l'appello alla partecipazione al voto del prossimo 26 maggio, comunque la si pensi sull'Unione Europea, è stata al centro del dialogo tra istituzioni, rappresentanti europei e cittadini che si è svolto nella sede di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, nell'ambito di The State of the Union, la due giorni dedicata alle prospettive e alle sfide dell'Europa. Titolo dell'evento che vedete nelle immagini, stavolta voto. I numeri della partecipazione al voto nelle ultime tornate elettorali sono chiari, dal 65% degli aventi diritto nel 2009 al 59% del 2014. Eppure l'Europa, ha detto il Presidente della Regione Toscana, è una costruzione che va oltre l'infrastruttura economica e burocratica e che anche in Toscana è presente con i suoi fondi che hanno finanziato, tra gli altri, progetti infrastrutturali e di recupero di aree urbane e progetti di sostenibilità ambientale. Ma soprattutto, come hanno sottolineato gli interventi dei partecipanti all'evento, hanno tutelato il rispetto della democrazia, della solidarietà e dei diritti.